Prendere le casette qua? Mi va di andare a Mega City, prendere il pompa mitico, ti giuro. Vai, subito. C'è il pompa mitico, capito, ci chiama. Ti chiama più la pizza, ti giuro ho famissima, devo ordinare qualcosa tra poco. Non l'ucciderò mai con st'arma. Peccato questo? Quello del resto? No, l'altro, cioè. Dov'è? Arriva? No. Bravissima. Cioè, aveva... No, l'altro. Scaccato? È l'altro team, comunque. Il mio è morto? In me c'è uno, forse voleva prendere la card. Era un altro team, comunque. Ok, arrivo, arrivo. È craccato, comunque. Sale sopra, mi sa. Vuole prendere la scheda dell'amico, comunque. Eccolo. Mi sono saltata proprio in faccia. Buonasera. Dov'è ancora volare e non sei tu. Ah, no, è pagato il gioco, ok. Bene. Non è normale. Secondo me, raga, che si controlla le mutande ha palesemente scagazzato. Nooo. Nooo. Però mi spavento subito. Poi l'ho fatta in maniera abbastanza... Come dire, un po', un po'. Stato ci avevo vista. Cioè, è vero, da un momento all'altro, ma... Ecco il boss. Spero di non morirci? No, di venire. No, no. Devi vederle le armi. In arena. Eccoli. Ci aspettano. Oldo, apro. Noc. Il boxato. Ma voi vedete veramente come andate con noi? Avete capito con cui fate power round? Poi ho capito. E' qua sopra. Vediamolo di soppiatto. Lanico. Scusa. Gagnam style! Arrivederci! Salve! È stato un piacere giocare con voi. Eh sì, di giorno hanno preso il Pipos così. Ci sono i flopper. Sì, sì, ora me li faccio. No, nel bush! Marti! Prevedi un po' i riflessi, eh? Ancora... Ancora ci sono. Sì, sì. E ti ha dato solo un 200, però... Sicuramente... Eccoli, eccoli, eccoli. Guarda, questo... Faccio gli anti-sap. Ti sono qua. Uno lo accade, eh? Tre... Full box. Marta. Ah c'è gente qua aspetta 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 Stai visto Ok Hanno la skin di attack on Titan questi qua sono dei pro player eh Te lo dico Ok Gli faccio una slurp e gli vado addosso Da P17 100 Knock No 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 Perché lei aveva ragione Fai tutte le splash che vuoi Ah c'è la slurp in più se vuoi eh Se te la vuoi fare frame Tanti ce l'ho Eeeh me la porto magari Ce ne sono altre ce ne sono altre Ce ne sono un'altra qua sotto se te la vuoi fare Ma che vuoi prendere qua il Lair C'è opto Va bene inna operando Non lo vuoi Quella mia vira va a meno 10 No mi sembrava la macchina con la struttura Gli faccio 4 slurp Come si sente il vento Va molto bene Va un po' di fresco effettivamente su fortnite Eccoli Marti 38 Wanna go? Si si Wanna go go? Ok go go there Hanno la cosa di Porco 2 Morto Ho visto Gli vendo like Ti dico subito che si sembrano bravi eh 150 Knock Tranquilla sono salva Ma io non so il danno Arrivò Io l'ho craccato forse eh Mettimi sotto il cono e vattene Arriva Bravissima cazzo Uh Menomale Mi atto Gli avevo fatto male Quanto buonasera eh Eh ci conviene aspettare un attico perchèin di là hanno like totale Erano pure questi penso che vadano sopra Jabba Uh uh 109 doppio Poi che spammi Un altro team vada da dietro Siamo noi due Due, quattro, sei e un solo Due soli Ah sì? Ah sì perché siamo quattro team e siamo sei Ah ok non l'avevo vista Ok uno è morto Vabbè andiamo in safe Qui è safe C'è uno dietro Tranquilla da quella 130 Bravissima C'è quello dietro qua Ma sei tu? No no sono due Ok sono sopra io C'è un altro da te La skin rossa Qua c'è uno Boccata Guarda Mi sa che uno sta qua dentro Ah e manca l'ultimo Manca l'ultimo infatti Giaffia E qua giù mi sa Ah eccola là 40 Ah è laggiù Bella cosa che passa Perfatta Hala 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 Io ho fatto due miss però era divertente Aveva la skin del biondino Mi stava molto simpatico questo ragazzo Sì è stato un fight un po' da bocelli Ma ci sta ragazzi dai Dopo una partita interessante che fai? Non fai un po' di bocelli alla fine? Ci sta Ma più alto perché raga mi si spostava da angola Da angola e non si capiva nulla In più editavamo entrambe sia io che Ila E quindi Non si capiva più Io poi alla fine stava morendo Non potevo più fare nulla Prendere la cura era troppo difficile Ah Ma ti vado Adremsadar Adremsadar mi dice lei Fantastico Sì perché Grazie